Salve a tutti ragazzi, sono Gennaro e questa volta, visto che ho tanti fan, ci sono pure tante persone che mi hanno scritto tanti loro guardate Scusate, ma è veramente una cosa che mi ha fatto piacere Ad esempio, stando questi due ragazzi, Dan e Dav, veramente vi ringrazio perché l'altro giorno stavo camminando per strada E si avvicina al ragazzetto e mi fa, ma tu sei Gennaro, guardate, mi sono commosso, guardate, era incredibile E allora volevo provare a cantare una canzone e non vi dico il titolo, dovete indovinarlo voi perché è veramente una cosa che mi piace veramente tanto Adesso canterò la canzone e magari mi scriverete qualche commentuccio, va bene? Every day is my dream I see you I feel you There is a walk who you go on There is a walk who you are The spaces Between us You will come to show you Go on Nel, far, wherever you are, I believe that the others go on. Once more, you open the door, and you are in mind, my heart will go in the door. Scusate ragazzi, ma è l'azzato che non cato, guardate che ho avuto quel filmato, spero vi sia piaciuta la canzone. Cazzo! Spegni Paolo, spegnila!